Cosa sta là dentro? Mi sa scritto per l'incasso dovrai... 10, 10, 10... Vabbè, questo è quanto ha potuto fare... Praticamente è una specie di caccia al tesoro. Ehi, ha messo i soldi anche a Leonilde, eh? Che non ci sta e che salutiamo. E che salutiamo soprattutto con questi. Leonilde, ci rifaremo presto, te l'ho già scritto. Questo è quello che ha potuto fare la mia... Monti, vai a striuvare, se no non è più valido. Per piacere, vieni con il sorriso a lavorare che già è fra caldo. Qui si stanno consumando attimi di panico. Il dolore. Tragedie. Come faccio a partire in California? Come faccio a partire? Hai capito che cosa sta scritto? Sì, però... Quei buoni soldi, non le cose scritte. Partili a questo cattaccio. Ma è vero, basta con questo scherzo. Lo sappiamo che le hai scrittate tu per tirarle sul muro. No, però, mo, cioè... Vabbè, io... Oh, io no, non so neanche cosa... Siete cattivi, cattivi, cattivi! Vieni qua! Vieni al vento! Questa è la prima puntata della fiction, questa scuola non è un albergo. Leggi bene bene! Vedi che cosa ti ha scritto? L'uomo con i capelli bianchi ti ha pagato, hai capito questo fatto? Vabbè, chiudiamo qui il collegamento. E alla prossima puntata, grazie!